Ciao a tutti ragazzi, ragazzi, sono Berrick e oggi siamo qui in un nuovissimo video di Fortnite in una nuova mappa cioè la mappa di Fortnite in miniatura se vedete qua c'è la slitta, poi c'è Pinnacoli, c'è anche Daniele, però da Daniele non lo facciamo salutare perché no Saluti Daniele Buon salve, perché io qua sopra non posso salire? Non sono da nessuna parte io Ah, ma Krivio, dillo Che è potente il suo K Krivio, hai trovato la K? Ma sono random le armi? Credo di sì perché voi quando a casa Bro, no, bro Rikà, Rikà lo state vedendo anche voi Guarda, guarda, guarda Ma dove sei Krivio? Qua, si è sbagliato la foto Era un cespuglio Prendi il loot, bello, bello Ho tipo sbilato No, dai, mi puoi prendere pure il loot Tutto mio, tutto mio Ragazzoli, vedete, qua è tutta la mappa Qua c'è Dai, vi esce, trovi, vi esce Io non so se tenerlo il cespuglio Ah, le smirate Sono una kill, eh Eh, eh, Nicolino Cosa butto, cosa butto Dai, cazzo, dove siete? Ah, qua cos'è sto posto? Vai, l'aero lo butto Ok, qua c'è una cazzo Io non mi ricordo però dove sono Dove sono le cazzo Guardala qua Eh, buono, non lo so Sono tutte accamperate nascoste Ma io credo c'erano random Ma come fanno a metterle così piccole? Cioè a fare tutta sta roba così piccola? Eh, non lo so Sono di geni Avranno ritrovato qualche modo Non posso più salire Io non ci credo che prima te non mi avevi visto Ma va, mica ti avevo visto Sì, veramente? Uo, uo, uo Rica, cosa sono trovato? Ciao Non mi fa ammirare, ah, ecco Non mi faccia ammirare Ti stavo sorpreso tutti i non-scop Dai Ah Non ti rubo niente perché vedo i lerni Sono senza Io adesso non mi ricordo neanche più dove eravamo Dai, ma ci metti mezz'ora per la periodo delle casse Eh, qua che m'arma trovo Mi, ma guarda che gigante che sei Io faccio un po' di parkour di qua, di là Ma buh, parkour di là, parkour di qua, parkour di là Parkour di qua, scherzavo Ascoltare il morco Dai, ma che cos'è? È la prima volta che l'ho prendo in mano, bro Ti giuro Oh, raga, non so che dirvi Ma cosa, bro? Ciao Ma posso rompere le robe Ma Crivio Come si possono rompere? Eh, non vedi che gli ho devastato tutto? Ma come? Tu che hai attivato che si possono rompere le robe? Vabbè Non ti credo Guarda in aria c'è l'autobus In aria c'è l'autobus Prova vero Stai che gli sparo No, ne... Ah, mi, meno male che non c'è Sì, ma da una caduta Dove tu sei tu? Oh, bro Cos'è sto robo? E che era un porco schifo Non hai capito cosa ho trovato Fermo, fermo, non mi ammazzare Oh, ma che cazzo fai, Cribbio? Ciao Non mi ammazzare E ciao Devo far vedere una cosa Guarda, guarda, bro No, sono caduto Guarda, guarda con l'ama Dov'è? Dov'è? Guarda, guarda, guarda Dai Vabbè, no, veramente no Ho visto perché ho visto con gli occhioli della ma si illumina Come fai a salire la persona? Ah, che roba lì No Bro, come fai a salire qui? Sto, ho cuore di battute Oh, dai, fammi a tela almeno Dai, ti lascio notare Ti dà dieci secondi Perché ti vengo ad ammazzare Dieci Nove Otto No, tu volevo prendere un arco No Lutto leggendario Sì, va bene Non so perché non ti ha preso Questo gioco è schifoso Ti volevo ammazzare di caccia Ma ti ha preso Ti ha preso mezzo legame Sì, mi devi un po' di armi qua Ne, R Oh Carmino Sei tu, Carmino Modalità mimetizzazione Ton, 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 ton Ragazzi dai, sai che lo recuperiamo Ma dove sei? Qua c'è una cesta Mi piace Ah dai non mi saltava Ma io non capisco perché non mi mira Non capisco perché non mi mira E non sto scherzando Noi cioè Dopo che Cioè per mirare devo staccare Devo finire, devo smettere di sparare No ma si può anche buildare Ah no ok no se lo fuori si può buildare Non ho rotto niente Non ho rotto metà mappa Io ho rotto metà mappa Eppure buildato E anche io ho buildato Ma qui c'è un materiale Però non si può buildare comunque Se no facevo una build file Viverò e distruggivamo tutto Ma perché non ti entro i colpi Non ti entro i colpi Ma io non capisco Poi vedi tutti i video Lo prendo solo perché mi fa schifo Che caso Tu devi vedere nei miei video Che non ti prendo Ma poi quando c'è un case Ah eccolo qua No l'ho già preso i totelli E appunto E non c'è niente Beh mi sa che questa Questa qua è proprio persa di brutto Questa Oh No dove cazzo sono caduto Ci godo Ok si può buildare Bru Bru no mi sono incastrato Vabbè io sfacco tutto E devo Non so buildarlo Nicola Ma qua c'è il parkour qua sotto C'è un parkour Sì Mamma mia Ah ho capito dove sei caduto Ah cheat Cosa cheat Che muore Che non muore Dai 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 Ti prendi la mia digola Eh si No 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 te la lascio Mi lasci un po' di loot No cosa Io ce l'ho limitato Poi non ammazzarmi No no me ne vado Ne vado a pinnacoli A fare gli skin di pinnacoli Ma dai Non riesco neanche a salire Sono sopra il palazzo corona Questo è il palazzo corona Addirittura il palazzo corona Fatta da dio Guarda le doppie Il palazzo nuovo In che città sei? In Germania No 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 Quattro dai Quattro dai Mi hai lasciato Mi ho fatto due volte Edshot Un botto di volte 20 Non so cadirti Ciao Ciao No Come fai prendere loot Ma che cazzo la fai? Crivo non ci sono più casse Ho capito paura Che se mi ammazza Se ti lascia prendere loot Mi sparare Mi ammazzano Posso prendere loot Per favore? Sì sì Ti lascio prendere loot Eh sì No 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 Qua a sporfondo c'è una cassa Io te lo dico A sporfondo c'è una cassa Ok Ti puoi anche molto Aspetta Però non mi ammazzare Bro No Ti si valga qua Bro Non hai idea Bro Ti si valga Bro Sono valgato E qua dentro Non ammazzarmi E lui mi fa saltare Io sono picco polare Ma io faccio Tipo una roba legina Tu sei picco polare Ah è capirà Bro Sto Sta mappa E' pieno di glitch Guardalo lì No è vero che mi vedi Ah è vero che mi vedi Crivio Non sono Andiamo a vedere cosa hai trovato Nella cassa Niente Mi piace questo R Viene a prendere il loot Già Nicolai Ah Ah Dio No 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 Vieni qua tu Dai Ghid Come cassa Il chiave Daniele Quanti kill sei? 12 con questo Eh Io Finirei qua il video Io sono Una kill No Voglio arrivare a 15 Vieni qua Nicolai Dai No Crivio Ciao Dove sei? Perché sei camperato? Sei qua giù a sprofondo? Eh Non mi faceva Non mi faceva Mirare Poi mi dare tutto nel video Crivio Ma Perché Cosa succede? Non ho capito cosa ti succede Eh Non mi fa mirare Faccio solo di uno scoop Ho visto che non miravi Vieni qua Dai Che arriviamo all'ultima Che vabbè Io il video lo finisco qua Ragazzi Io vi saluto Vai Finisci Fai il premato Io ragazzi Vi saluto Con questa Con questa Con questa Partita C'è uno v uno Bruttissimo Che ho vinto io Eh vabbè Perché all'inizio Mi ha ammazzato subito E quindi No All'inizio mi hai arato Eh Come dici Mi hai ammazzato prima te La mappa comunque Fa te Vabbè ragazzi Io vi saluto Che dirvi Vieni qua Che ti ammazzo Dico Gli lasciare un bel mi piace Iscrivi al canale E E di condividere il video E niente Io vi saluto Ciao Daniele Daniele Vuoi salutare? Daniele Vuoi salutare O vuoi ammazzare? Ciao 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 Grazie a tutti.